La caccia al tesoro In cui diverse squadre hanno raggiunto diverse tappe in luoghi della città legati alla tematica del riciclo Previsti poi quiz e altre prove per superare i diversi checkpoint Per i vincitori tre buoni spesa Conad dal valore di 1500-1500 euro Ai nostri microfoni Francesco Iacotucci, amministratore unico di Asia Napoli S.P.A. In questo gioco ci sono tutti gli elementi, c'è la città con la sua bellezza Il riciclo è una raccolta differenziata e quindi i cittadini e l'azienda hanno l'opportunità oggi Di spiegare anche a tutti quanti gli altri quanto è importante la cura della città e il riciclo A partire dalla carta che è uno degli elementi più semplici da riciclare La raccolta differenziata di carta e cartone in Italia negli ultimi anni sta riscuotendo importanti successi Ma si deve ancora migliorare Ce ne parla Eleonora Finetto, responsabile della comunicazione di Comieco La raccolta differenziata di carta e cartone in Italia ha raggiunto dei livelli molto interessanti Abbiamo superato da tempo i 3 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolti Che significa una media di 53 kg per abitante Sicuramente i margini di crescita e di miglioramento sono ampi E sono ampi soprattutto al sud All'evento ha partecipato anche il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, che ascoltiamo Sì, è una bella iniziativa per due motivi Uno perché abbiamo modo di conoscere le nostre isole ecologiche E quindi questo percorso didattico, educativo, anche con un premio finale Che non guasta, anzi fa piacere Verso un uso responsabile di quelle che sono le risorse naturali In modo particolare il corretto funzionamento della differenziata che parte già da casa nostra